Benvenuti, cari follower! Prima di entrare nei dettagli, spero che tutti voi ci sostenete e incoraggiate premendo il pulsante Mi piace per questo video e iscrivendovi al canale e attivando la campana su tutte le notifiche. Grazie! Quindi, il modello europeo emette un avviso in rosso scuro e indica un'alta possibilità che l'Italia sia esposta a un forte uragano, e questo a metà dell'A, prima settimana del prossimo agosto, precisamente a partire da sabato 3 agosto 2024. Come potete vedere nella mappa davanti a voi, questo forte uragano colpirà violentemente il nord e il centro Italia, con ingenti precipitazioni, piogge molto abbondanti e potrà provocare forti alluvioni, soprattutto al nord, con il rischio di caduta di grossi chicchi di grandine, che potrebbe causare danni ingenti alla popolazione. Secondo il forte uragano, sarà accompagnato da forti venti con tempo, molto brutto, pioggia e forti temporali. Secondo i dati preliminari a nostra disposizione, questi temporali saranno molto violenti nel nord e nel centro Italia e si estenderanno gradualmente fino a lontano al sud, perché le piogge saranno più forti al centro e al nord Italia. E la quantità di pioggia si avvicinerà o supererà la soglia dei 200 mm come tasso di accumulo in alcune zone, con rischio quindi di forti alluvioni. preparatevi molto forti i temporali in arrivo con tempo molto difficile dopo il 3 agosto e maggiori dettagli che cercheremo di fornirvi nel prossimo video.